Per una notte intera, quella di sabato 17, dalle ore 21 alle prime luci dell'alba, la biblioteca e musei oliveriani saranno accessibili al pubblico per un'iniziativa culturale unica nel suo genere. L'idea, nata da Ugobetti, presidente di Pesaro Segreta, capace di contagiare anche la ente Olivieri, consiste nell'accogliere tutti i partecipanti con musica, teatro, visite guidate del Museo Oliveriano, Escape Room e un incontro con l'autore. L'abbiamo immaginata come una festa da dedicare a tutta la città proprio per festeggiare la riapertura del Museo archeologico e abbiamo pensato che sia una notte intera da passare insieme a noi nella biblioteca e ai musei oliveriani. Devo dire che l'idea originaria è stata pensata da Ugobetti, che è qui vicino a me, presidente di Pesaro Segreta, proprio come un'iniziativa che potesse in qualche modo regalare un momento speciale per la città. A avvicinare la cultura della nostra terra, della nostra città, i giovani. I giovani e quelli che si sentono tali amano la notte, cosa c'è di migliore di aprire una biblioteca e un museo proprio di notte. E ne succederanno di tutti i colori, perché ci sono delle cose in loop ogni ora, ma ci saranno poi, non spoileriamo niente, delle cose veramente molto molto carine, chiavi di lettura diversa nell'avvicinarsi a questi due ambienti sacri della nostra città. Ad imprezzosire la serata ci saranno anche degli intermezzi teatrali a cura degli attori Francesca Di Modugno, Giorgio Donini e Giuseppe Esposto, di Amici della Prosa. Un'associazione che assieme al Comune di Pesaro, Le Voci dei Libri, Brain Fit Escape e l'enoteca Solo Buon Vino hanno reso possibile la progettazione di questo curioso appuntamento notturno. Questo è un modo anche per raccontare a tutti i cittadini pesaresi che la Biblioteca e Museo Oliveriane sono anche la loro casa e li aspettiamo volentieri. Grazie a tutti.